Benvenuti, siamo tornati qui, oggi ci abbiamo visto, volevamo fare, ci abbiamo visto lungo, perché abbiamo visto che oggi dovevamo fare una, dovevamo fare un road, abbiamo visto che c'era il cyber torneo e abbiamo visto che anything goes da 12k se lo vinciamo, perciò noi siamo qui per fare, per vincere questi 12k, quindi niente facciamo subito, perché ci l'ha avviato, ah perché siamo già entrati, vabbè niente, e dai, ciao Allora ragazzi, una altra cosa che vogliamo ricordarvi è che il 22 dicembre ci sarà il RomaTube, perciò qui in descrizione ci sono i link, in descrizione, ci sono i link in descrizione, ci sono i link per acquistare i biglietti, per chi non sapesse cos'è il RomaTube sappiate che siamo già alla terza edizione, quindi comunque se scrivete RomaTube su Youtube, vi vedete dei video dei passati RomaTube, e sarà uno spettacolo dove ci saremo noi, Dredd, Frax e Gabbo, che è lo special guest di quest'anno, è la prima volta RomaTube per Gabbo, perciò staremo sul palco un'oretta, un'oretta e mezza, faremo uno spettacolino, Molto semplice, poi a fine, a fine spettacolo firmeremo comunque autografi e ci faremo le foto tutti quanti insieme e potrete parlare con noi, perché comunque non verranno molte persone, saranno tipo passimo 300 posti mi sembra, quindi comunque saremo in pochi e potremo comunque scambiare due parole con tutti quanti, perciò se volete venire in descrizione c'è il link per comprare i biglietti Allora, vediamo la squadra, ok, 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 raga, però cazzo Ho capito che non ci stanno requisiti d'accesso, però non ci vieni con una squadra senza intesa Allora, drop up versus pialice, è il match up di oggi, attenzione, e tazza 37 conto 25, vai, si parte, siamo carichi Questa qua, dopo questo torneo vale guarin, raga, passa ancora Guarda, 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 no! Sì Tira Sì, no! No! Ha detto me, ma che cazzo? Va bene, va bene, va bene Oddio, moltissimo magna! Ma che era? Ma che giro fuori? Ma che è sta merda? Oddio mio! Boom! Oddio, un ciloro partito! Fuori Centro No, l'ho sbagliato da poco Oh! E che cazzo che ha... Sì! Oddio, ma che cazzo che ha... Mi hanno spuntato di merda Mi sono tagliato E che cazzo? Sì! Se stavo a cazzò e poi si... Riccardi! Comunque tutto è invenzione di Romulo Vabbè, comunque non se ne va, ci fa un favore perché così sbrigiamo Sì E noi dobbiamo vincere i nostri 12k, bro Grande Un grande Un grande Non ne vado dal cazzo, giuro Eeeeeee 3 a 0 Perché è la Pjanic? È la Pjanic! È la Pjanic! E che ancora è 3 a 0? Raga, noi non esultiamo questa partita perché è molto semplice Lui si sta andando E se ne va E se ne va E se ne va E se ne va Che bello, non abbiamo spiegato cosa La forma fisica Allora, allora Eh, questo già... già... già C'è l'intesa c'è Però c'è lui C'è il signor Ramsey Io non lo sottovaluterei Che ci si vabbia la connessione L'ho visto? Oddio che palla! Perchè? Eh, perchè si, il ballotelli stava in mezzo Il cazzo che devo fare? A tiro da là Se ne va Se ne va Porca puttana porca Ecco il ballotelli in mezzo E' buona! Siiii! Siiii! Così si fa Buccio dai culo Sono più forte Capito? Dai su Come? Come? Cioè, no regà non è possibile Porca madonna Non è possibile Come è passato? Si, balla su sto cazzo Grazie allo script E' il ballo dello script E' il ballo dello script E' il ballo dello script E' questo affatto eh I'm sick I'm sick Non sa che fare Ah, rigore! Dagli cazzo! Dagli cazzo! Non sa che fare Metti tu in culo Tira a destra Boom! Si! Si! Fallotelli! Che dici? Lo so che sto affatto Eh, no! Ti andassi oggi di negli meno eh Eh, si Dammela No, 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 no Fuori gioco No! E' il gol! 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 Tripletta per lui! Pubblicità per noi Attenzione! C'è anche lui! Perisic Perisic Passalo! Perisic Ehi! 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 Vedi che è un coglione Te la voluto tenere Teac 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 Scusate se esisto Teac Scusate Porca puttana La sua morte la vorrebbero in molti Aia Ops Ops Che peccato Se n'è nato Manca il tempo staccato il cavo Ha lanciato affanculo Ha lanciato la playstation Va beh, raga, semifinale facile Non abbiamo ancora finito una partita Se beccamo subito la prossima Perché se Deimos briga Mettiamo la formazione di titolare Cazzo Già Eccoci con la semifinale Bam! Ok, ok E' forte E' forte E' normale Più andiamo avanti Più si incontrano questi squadretti Cazzo Cazzo Cadroia Porca Che cazzo era? E lo so Però la idea era giusta Oddio 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 mio E' grande Ma tutto cazzo Mi fa venire La prossima Perchè Per tiro Ma c'era C'era Tutto quel tiro Poi comunque ha portato al gol C'è Oh Fanculo Leva delle coglioni Dio santo Passa qua Un Miggio E' un Mimmel E' un Mimmel E' un Mimmel E' un Grasto Questo come c'è arrivato in semifinale? Ma lo spieghi? Oddio Vieni la faccia di tazzo Damela Tienee Non è fuori gioco Che cazzo dici? Ma tira Ma che porca Rigore Ma che è sta partita? Destra sempre No sinistra Destra Perché su Agab Vuoi dire? Non ti ho detto che su Agab Ma in mezzo c'è sta Amsic Perchè mi hai detto in mezzo stavo in porta Perchè stavi in porta? C'hai quello davanti Se andava a passare te la levava Porco due Che cazzo ha fatto? No vabbè C'è però che buce Porco dici La passata Che hai ritornata addosso Ptacci Però io quando ti dico dire a destra Che tu mi dici no so Agab Porca puttana Perchè so Agab? Eh si infatti gli Agab finiscono sempre male I cardi Guarda i cardi Bella Perera Perera Vaffanculo finalmente a segnare E dai Si si fai il rulanino Eh Vedi da andate in arfanculo Quella rulanino Porca puttana Eeeh Vallo Rosso Mori Che cazzo Oddio Vaffanculo Vabbè Te l'hai sempre più vicina Inchallah Vaffanculo Mori Eh A forza devi farcire il portiere Eh Ancora Fallusci ancora dai 4 a 1 Rega la finale è nostra Cioè siamo in finale ma non è detto che poi vinciamo Oh Ha rotto il cazzo eh No rosso Vedi cose che devi dà No Porco cane Ma che cazzo stiamo sul 4 a 1 Non stanno qui Goll I danni proprio devi fare Vabbè Movimenti il gioco Ma che movimenti sto cazzo Movimenti Shalla Shalla Pjanic 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 Scusate eh Pjanic Ma ho capito come tocca a tirare con Pjanic allora Tocca a caricancazzo Sì Cioè Non lo fa stanca Passa vale Oddio 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 5 a 2 Cioè Infatti è che è proprio The God The God The God The God Bello è che mi ha detto due secondi fa non lo stanca Raga Cioè Io Questa la Mi salto troppo E' troppo bello E' troppo bello Non stanca la shit eh Vabbè ma questo andava fatto Gli do la forma fisica Cioè Maurizio Cacca Per me mi fa un po' di tranciato Lo dico io Come se mi ha infortunato No Però è russo Cioè Teoricamente dovrebbe essere russo Ciao Possiamo fare così Sì Io quello era l'intervenzione fino in parità Fanno la difesa di Cristo Ok Finale ragazzi Finale per loro The final Io vorrei sottolineare il gol di Salah Però vabbè Io ho l'espulsione di Manolans Ok Siamo tutto pronti Tutti siamo pronti Questa è la finale Lui la davanti c'ha Feguli Porca puttana C'ha i buggatissimi C'ha pure Griezmann Ci siamo La nebbia Perché ci deve sta la nebbia Olympia Stadium C'è Ragazzi senti un po' di tensione qua eh Dai che No! La votata giusta Porca puttana La votata giusta La votata giusta La votata bene Cioè proprio al momento giusto Giallo a chi è Oh! Dai! Mamma mia Eccolo sarà E' il feeling incarinato eh No Giuro io Io volevo darla su Perché non l'ha data su Hai visto che non mi ha funzionato Porca puttana Grande Marchetti Ti amo Porco due Te faccio un pompino a fine partita Perciò 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 Tu lo sai in questo noto vi fa Oh! 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 Riesco a fare due passaggi in fila Ogni passaggio che facevamo andava addosso all'avversario loro E anche se lo indirizzavamo Non è possibile una cosa del genere Comunque poi Scrivete pure che io me la metto sempre Perché non me frega un cazzo Perché perde così in cesso Vabbè Niente Se questo Speriamo che questo video vi sia piaciuto Lasciamo Quanti like Arriviamo a 12.000 Quanti tu amo vince i crediti Perché cioè Stravince tutte le partite Fino alla finale E poi alla finale succede questo Eh Io non ce sto Però vabbè Ci riproveremo dai Comunque niente Lasciamo 5.000 like se vi è piaciuto questo video Noi ci becchiamo come sempre Al prossimo video Ovviamente sempre un prossimo video Perché non quello prima E quindi niente dai Bella regà